Il mare tira dall'altra parte, se li perdiamo ne abbiamo altri tre da mandare? Eh no, non ce l'abbiamo. Purtroppo c'abbiamo qui. E con le mani. Ecco blind. Perfetto. Un classico tuffo a candela, tutto bene. Alvin dice che c'è molta corrente. Che paura. Allora, sull'elicottero è rimasta Patti, dovrebbe indossare l'elicottero, mi dovrebbe sentire. Patti, io ti volevo salutare, non so se mi senti, sì. Ciao, Ilari, sì, ti sento. Ciao. Ciao, Patti, benvenuta. È la prima volta che ti tuffi da un elicottero? Sì, onestamente sì, però non ho paura. Chi nella vita non si è mai tuffato da un elicottero? Scusa, una cosa. È una cosa che capita un po'. Sì. Sempre. Ma io sì. E lei si è tuffata. Ma certo, ma qui. È chiaro. Allora, Patti, sei una bella tosta tu. Sì, non ho paura. E allora vai, levati le cuffie e tuffati. Grazie, ciao, ciao. Ci vediamo tra pochissimo. Patti con le ossa. Sì, vai, sì. Perfetta. 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 Grazie a tutti